Presidente, il Consiglio Comunale ha esaurito quelli che erano gli argomenti di questa sessione che era iniziata la scorsa settimana, poi rinviata tre mozioni, tra l'altro sono degli atti di indirizzo di cui l'amministrazione dovrà comunque tenere conto. Esattamente, ieri abbiamo tenuto la seduta di prosecuzione, sono state esitate tre mozioni. La prima mozione sull'inquinamento ambientale davanti alle scuole presentata dal Consigliere del Movimento 5 Stelle Falcone. La seconda mozione era relativa all'organismo indipendente di valutazione. presentata dal Consigliere Falcone, dal Consigliere Rubino, lo giudice Alaimo. E la terza, una mozione, avendo ad oggetto le indimpienze di Giorgine di Acque e la conseguente risoluzione del contratto col gestore del servizio idrico, proprio a causa di queste indimpienze. Le prime due mozioni sono state esitate dal Consiglio Comunale favorevolmente a maggioranza dei consiglieri comunali. La terza mozione su Giorgine di Acque, invece, è stata esitata all'unanimità dei presenti. Peraltro, durante la discussione, il Sindaco ha rappresentato proprio l'utilità di questa mozione, perché era stata, peraltro, presentata non solo dal Consigliere Falcone, ma anche da diversi altri numerosi consiglieri. Questo lo dico per puntualizzare una mozione che, come ha detto il Sindaco, serve anche a dare forza all'amministrazione comunale affinché, attraverso l'ATI, si possa, definendo le procedure adeguate, addivinire proprio la risoluzione del contratto con gli indimpienze di Acque per le indimpienze che tutti noi cittadini vediamo ogni giorno verificarsi. Il dato politico è che il Sindaco non ha più una maggioranza in Consiglio Comunale. Per le prime due mozioni, dicevo, sono state esitate a maggioranza. Il gruppo politico, facendo capo alla maggioranza, diciamo, c'è il gruppo del Partito Democratico e il gruppo Uniti per Canegatì, hanno votato contrari alle prime due mozioni e quindi, di fatto, sostanzialmente, è stato approvato comunque a maggioranza dei consiglieri. Il Presidente del Consiglio Comunale è un consigliere. Lei ha votato non in linea con quella che è il gruppo che sostiene l'amministrazione di Ventura. Io ho votato, diciamo, favorevolmente alle prime due mozioni perché ritengo che siano due mozioni utili e importanti per la nostra città che fossero valide e quindi le ho votate favorevolmente in adempimento del mandato che i cittadini hanno consegnato a ognuno di noi come consigliere comunale che il nostro obiettivo non è quello di garantire maggioranza o minoranza, poi peraltro io in questo caso voto perché sono anche consigliere comunale, ovviamente, ma noi non siamo consiglieri comunali per garantire maggioranza o garantire minoranza, ma siamo consiglieri proprio per fare il bene della nostra città. E il bene della nostra città si fa esitando positivamente, votando positivamente o negativamente a seconda appunto dell'utilità che i variati amministrativi che deliberiamo hanno per la nostra comunità. Cosa pensa di questa nuova giunta? Tra l'altro Monca perché si è dimesso l'assessore Sabatino. Sì, abbiamo sentito tutti che si è dimesso l'assessore Sabatino, un grand'uomo e persona per bene, che si è dimesso per questioni di salute e professionale. Chiaramente questi avvigendamenti, questa mancanza, per esempio attualmente questo voto che si è creato nell'assessorato che era gestito ed era in capo all'assessore Sabatino, sono avvigendamenti che fanno male alla comunità perché chiaramente Canegati ha tantissimi problemi che ognuno di noi verifica nella vita quotidiana, problemi come quello dei rifiuti, i problemi del traffico, i problemi che attanagliano tutta la nostra città, che sono diversi e non basterebbe un'intervista perché dovremmo dissertare per molte ore. Per cui questo tipo di avvigendamenti, questi voti chiaramente determinano delle problematiche perché poi le questioni non possono essere affrontate con forza e con incisività. Quindi spero e auspico che questi avvigendamenti sia una ricomposizione dell'aggiunta al più presto possibile perché si possono affrontare, ripeto, però con più incisività e più forza problemi che purtroppo ad oggi non sono stati risolti.